un padromo delle capannelle con i cavalli e adesso escono dalle gambe partiti e in vantaggio Rosina Bella davanti a Nos Aspect Asia Time Mugeido Caffeina Tusciara San Roberto South Pole Antidodo Sicili Don Giustino Pachito e Pontalibre dopo 300 metri di corsa è in vantaggio Rosina Bella davanti ad Asia Time Nos Aspect Mugeido Caffeina San Roberto South Pole Tusciara Antidodo Pachito Sicili all'inizio della curva prosegue in vantaggio Rosina Bella davanti a Mugeido Caffeina Nos Aspect San Roberto Asia Time Tusciara Antidodo South Pole poco prima dell'ingresso di Ture sempre in vantaggio Rosina Bella davanti a Mugeido Caffeina Asia Time e San Roberto i cavalli entrano in dirittura con Rosina Bella in vantaggio a centro pista davanti a Mugeido Caffeina San Roberto Tusciara Asia Time per linee interne antidoto a centro pista Pachito allo steccato opposto con Pontalibre passa Asia Time davanti a South Pole passa South Pole davanti a Pachito Pontalibre ed Asia Time come è che cazzer se cazzerà cazzerà as singularzà in ก Grazie a tutti